Ammonta oltre 31 milioni di euro la somma necessaria a riparare i danni dell'alluvione che il 27 e 28 luglio 2019 ha colpito i territori di Arezzo e Siena. A comunicarlo è stato il presidente della regione toscana Enrico Rossi, commissario per la gestione del post alluvione in una riunione al genio civile di Arezzo. Circa 4 milioni per gli interventi d'urgenza, mentre quasi l'intera cifra, oltre 27 milioni di euro, servono per realizzare casse di espansione, consolidare gli argeni dei torrenti e mettere in sicurezza il territorio. Abbiamo fatto un elenco di 21 opere, 21 progetti che sono già in stato avanzato di progettazione preliminare da parte del genio civile, concordati con i comuni e concordati anche con il consorso idraulico su tutti i vari torrenti, fiumiciattoli, corsi d'acqua e persino ri, che vogliamo far partire, i lavori vogliamo far partire, la co-realizzazione di questi progetti vogliamo far partire nel corso di quest'anno utilizzando le accelerazioni consentite dal commissariamento che il governo ha conferito al presidente della regione toscana. Rossi ha poi aggiunto che nel caso in cui dal governo non arrivasse la copertura totale della somma necessaria a soddisfare le richieste di intervento, la regione interverrà per integrare il finanziamento.